Questo semplice sciroppo è a base di origano fresco e miele, entrambi dotati di potenti proprietà medicinali. L'origano è un'erba profumata che viene comunemente utilizzata nella cucina mediterranea. È ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere l'organismo dai danni dei radicali liberi. L'origano è anche un potente antimicrobico, il che significa che può aiutare a uccidere batteri e virus dannosi. Il miele è un altro potente rimedio naturale utilizzato da secoli. È noto per il suo effetto lenitivo sul mal di gola e per la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario. Il miele ha anche proprietà antibatteriche che possono aiutare a combattere le infezioni. Come si prepara uno sciroppo di miele e origano a casa? Ecco una semplice ricetta che puoi provare. Per questa ricetta avrai bisogno di 100 grammi di foglie di origano fresco, 350 grammi di miele, 250 millilitri di acqua. Inizia mettendo l'acqua in una pentola e portandola a ebollizione. Successivamente aggiungi le foglie di origano fresco alla pentola e abbassa la fiamma a fuoco lento. Lascia sobollire l'origano nell'acqua per circa 10-15 minuti o finché l'acqua non si sarà ridotta della metà. Una volta che l'acqua si è ridotta, scolla le foglie di origano con un collino a maglie fini o con una stamigna. Mentre l'acqua è ancora calda, aggiungi il miele alla pentola e mescola finché non si sarà sciolto. Trasferisci lo sciroppo in un barattolo e conservalo in frigorifero per un massimo di due settimane. Per utilizzare lo sciroppo basta prenderne uno o due cucchiai al giorno per calmare la tosse. Puoi anche aggiungere lo sciroppo a una tazza di tè caldo per ottenere una bevanda rilassante e deliziosa. Ecco un rimedio semplice e naturale che può aiutare a trattare la tosse e a rafforzare le difese immunitarie. Quindi la prossima volta che ti senti poco bene, prova questo sciroppo di origano e miele.